E ben a tutti ragazzi, sono Nicola Di Berardino e oggi siamo in questo video Oggi ragazzi faremo un video molto speciale, oggi siamo un nuovo video ragazzi Oggi si mangia kebab ragazzi, quindi ho preso il kebab vicino a scuola Intanto ragazzi, adesso apriamo la busta e non perdiamo tempo Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella Allora intanto ho preso la coca cola perché questo non può mancare E ci godiamo questo kebab, se due ragazzi senti il profumo Ok Panciamola d'acqua raga, che è meglio Ok attraverso al top è buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo ok non è buonissimo non ho, non è buonissimo Grazie a tutti. Qua si è finito il kebab, sono questo appunto qua. Raga vi posso dire che è buono questo kebab. Qua si è finito. Qui le patatine buonissimo. Un altro kebab, scusate ragazzi, perché bevremo un po'. Qua si è finito. 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 Sì Sta per credere Alzo, alzo Delicato Sì 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 Sì